Cosa ci sarà da aspettarsi con l'arrivo della nuova Banned List che colpirà il TCG di One Piece? Quale leader verrà maggiormente colpito da questa ennesima manovra da parte della casa madre? E quali saranno le carte in questione che subiranno una limitazione, o peggio, verranno completamente escluse dalle dinamiche del gioco? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande? Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. È arrivata la dichiarazione da parte della Bandai che in data 12 agosto 2024, durante lo svolgimento delle finali, sarà resa nota la nuova lista di carte limitate e bandite. Dopo la notizia di speculazioni a riguardo ce ne sono state molte, soprattutto tenendo in considerazione che nelle terre del sollevante, le meccaniche del GCC basato sul capolavoro del maestro Oda si trovano in largo anticipo rispetto alle nostre qui in occidente, e questo potrà portare diversi disagi. Tra i tanti, quello che vede l'inutilizzo, o per meglio dire la limitazione temporale nell'inutilizzo, di alcune carte presenti nei prossimi set. Tralasciando però quest'ultimo concetto, i target di questa lista vedono due indiziati principali, anche a causa dei supporti in arrivo nelle espansioni che verranno, e basterà vedere quali leader si sono piazzati in alto nella tierra orientale per predire quasi con certezza quali capitani verranno calmierati, permettendo così agli altri aspiranti re dei pirati di competere in un meta molto più vario. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto, si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo, perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un clic, per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali potranno essere i bersagli della Banned List annunciata dalla Bandai per il TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. Arriva la nuova Band. Senza fare troppi giri di parole. Kid o Moria? Questi infatti sembrerebbero essere i due bersagli maggiormente colpiti dalla lista che arriverà questo agosto e visti i maggiori piazzamenti centrati nel paese del sollevante e limitrofi, si potrebbe assolutamente credere che carte contenute nei deck rappresentati dai due leader in questione andranno ben presto ad incorrere in limitazioni o divieti vari. E quindi quali saranno le carte coinvolte? Qualcosa mi dice che in candidatura si potranno trovare Black Maria, la SR Viola di OP08 seguite da Reiju SR di OP06 e Sanji SR di OP07 per quanto riguarda il Viola, colore complementare assieme al rosso che vede lo del decimo starter giocarvi entrambi. Mentre l'altra tonalità coinvolta sarà, come già accennato, probabilmente il nero. È Arconte ma Moria non è poi così forte in confronto ai leader che arriveranno. Infatti stavo pensando a Luci. D'altronde nelle top asiatiche sia il Medico della Morte che e il membro governativo hanno fatto incetta di piazzamenti eccellenti, dando qualche contentino a capitani vari che hanno fatto capolino qui e là. E quindi quale carta potrà essere presa di mira per questo colore? Non ne ho idea, a dire la verità, di soluzioni valide ce ne sarebbero davvero molte, partendo da Moria, passando per Saboblocker e terminando a Borsalino. La cosa che mi fa pensare è che colpendo questi ultimi profile come Luffy dei Tre Fratelli, lo stesso Moria e tutti coloro che condividono il nero come tonalità potrebbero uscirne danneggiati, dando però spazio ad una diversità di meta che porterebbe quindi i numerosi aspiranti re dei pirati a voler testare nuove liste. Per quanto mi riguarda tornerò a giocare barba e pace fatta. Ma ripeto, se per il deck di Loh le voci sono più che focalizzate verso tre carte nello specifico, qui non ho la più pallida idea di cosa potranno andare a toccare senza arrecare danno ad altri. Per assurdo anche Rebecca potrebbe effettivamente risultare pericolosa con gli sviluppi futuri. Altri addirittura hanno suggerito Brook costo 3 delle B01 e Jack SR o P08, ma non li trovo così dannosi per le dinamiche del gioco di per sé. Mentre Sabo Secret, per quel che mi riguarda, è abbastanza bilanciato a livello di costo-forza-effetto, d'altronde è una Secret, ci sta che sia leggermente più potente rispetto ad altre carte del set di appartenenza. E Daniel's Lobby, invece, partiamo con il dire che non è la Moby Dick. Sì, vero, da meno 2 ad un personaggio ad ogni turno, molto valida come stage perché si sposa alla perfezione con la seconda versione di Luci e potrebbe, in effetti, rientrare nelle mire della Banned, ma la vedrei meglio limitata piuttosto che bandita, anche se la lascerei così. C'è comunque la concreta possibilità che solamente il medico andrà incontro a restrizioni varie salvaguardando colori come il nero stesso e tutti i restanti 4 che potranno continuare indisturbati a calcare i tavoli da gioco. Beh, speculazioni a parte, non ci resta che aspettare poco più di un mese per scoprire quali danni farà questa nuova Restricted e Banned List e alle porte di quali leader busserà più forte, tenendo comunque conto che qualsiasi notizia verrà divulgata, essa entrerà in vigore idealmente dal set successivo, quindi per OP09 in Oriente e a data da destinarsi in Occidente, ma più o meno a poche settimane di distanza. Oddio Arconte, e io che ho appena costruito un lo spendendoci una fortuna? Come mi dovrei comportare? Semplicemente non fatevi prendere dal panico. Non vendete per paura e mantenete ogni carta a vostra disposizione. Impariamo dal TCG di One Piece che, in questi due anni, ci ha fornito due casi studio. La Banned della Bandai non è perpetua, a parte per alcuni elementi, e quindi quel che verrà preso di mira potrà uscire dalle grinfie della negazione in un futuro. E non sempre una limitazione limita per l'appunto il potere di un leader. Vi ricordo che per annientare barba bianca hanno dovuto far fuori direttamente la carta del leader, come è stato anche per Sagazugi. Quest'ultimo però è tornato con delle modifiche all'effetto, mentre il baffo bianco, no, bandito fino a nuovo ordine, che è arrivato con la pubblicazione di OP05. Semplicemente quindi non fatevi prendere d'allarmismi in anticipo, godetevi appieno ogni esperienza ludica che affronterete, e quando arriverà il momento di pensare al da farsi, allora, e solo allora, si deciderà quale contromisure attuare. E voi, che idea vi siete fatti riguardo questa nuova band? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.